Non li puoi far spilare sulla scala 1 a 1? Così passano davanti alla telecamera, alla fine, così... Alla fine passa la 1 a 1. Per cui se tornate alle postazioni precedenti... Ma passano tutti di qua però, 1 a 1? No, qui passavano solo 2. Ah, solo 2? Va bene. Allora, se posizionate un attimino alle posizioni... Sì, sì. Velocemente, velocemente. Fanno... Sì. Sì, fanno due foto. Sì, fanno due foto. Sì, fanno due foto. Allora, dove... Sì, fanno due foto. Sì, fanno due foto. Eh... Sì, fanno due foto. Io e me... Va bene. Sì, fanno due foto. Che chi è? Sì, fanno due foto. Diamo, allora. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Asia, Italia, riposizionato. Ok, ok, cizia, vai vai, la puoi fare qui? Ok, 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 ok. 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 Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok.